Sono annuncia, ma hanno detto che qualcuno va a riscata dove voglio vendicata e perciò mi trovo qua. Marco Pipe sta premurato, mi commuove io l'offrezzo, ma ho saputo che c'è un prezzo che io ci avrebbe da pagare. Beh, oddio, come si dice, non ha mano una valantra, voi che siete così scartate, lo dovessi sapere. Ma se io, diciamo accetto, sto barato un po' barzano, puoi dare da quel marano la lezione che c'è. Ve lo giuro sulla testa di mio nonno sconosciuto, tra tuore quel formido, pugnalato io l'avrò. E così su sta parola venneva a ter fatto stucco, un cortello nella gola e tre giorni sul sofà. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie. 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 Grazie.